Io ero di sana e robusta Costituzione, era mia madre che mi faceva ammalare. Lei mi portava volontariamente a prendere le malattie infettive dai cugini per togliere il pensiero. Infatti domenica mia madre si preparava, io dicevo da piccolo, ma dannamo se fai il bravo, mamma, oggi te porta da Claudio, tuo cugino, a prendere gli orecchioni. Che so che c'ha 40 de febbre, così vi mettete a giocare voi lì, mamma te chiude la porta con la sedia, non potete uscire, dovete giocare e poi vedrai che starei meglio. Poi quando mia madre mi andava a riprende, io avevo il vomito, mar de testa, con l'orecchione così, bravo, lo vedi, avete giocato, vi siete divertiti, adesso se guarisci fra una quindicina dei giorni, mamma te porta da Luca, l'altro cugino, a prendere la rosolia.